Torna l'allarme dei bocconi avvelenati in Valle Peligna. L'ultimo episodio risale nei giorni scorsi nella frazione di Bagnaturo in via Fonte Abate dove è morto il cane di proprietà di un settantenne. Il sospetto che il decesso dell'animale sia riconducibile a un avvelenamento è arrivato nel corso del primo sopralluogo effettuato la settore faunistico della polizia provinciale che ha raccolto la segnalazione del proprietario del cane. Nell'ultimo periodo le nostre campagne sono state invase dai lupi per cui è facile che qualcuno abbia lasciato le bocconi avvelenati ma non possono pagare i nostri cani. È un atto vergognoso se si fuoco il proprietario dell'animale. Nei prossimi giorni la carcassa sarà sottoposta a un esame approfondito mentre in mattinata il nucleo cinofili deforestali ha effettuato un sopralluogo per trovare eventuali tracce di esche e sta di inoltre eseguita la bonifica.